possiamo fare. Vogliamo aprire la nostra Bibbia nel libro di Daniele, stamattina leggiamo dal libro di Daniele, capitolo 6, dal versetto 1 leggeremo al versetto 10, quindi i primi dieci versetti del libro di Daniele. Al Signore diamo tutto l'onore e la gloria, amè? E alla sua parola. A volte preghiamo, Signore benedici la tua parola, ma la sua parola è benedetta, amè? Quindi Signore benedici noi mentre leggiamo la tua parola e benedici la lettura e l'esposizione della predicazione della tua parola. Versetto 1 capitolo 6, Daniele, parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e al re e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario, il re pensava di stabilirlo soprattutto il regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Allora capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero vivi in eterno o redario. Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo tranne che a te o re sia gettato nella fossa dei leoni. Ora o re promulga il divieto e firma il decreto perché sia immutabile conformemente alla legge dei medi dei persiani che è irrevocabile. Il re Davide firmò quindi il decreto e il divieto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato andò a casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme tre volte al giorno si metteva in ginocchio pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Fin qui la lettura della parola di Dio. Signore ti benediciamo per la tua parola e ti ringraziamo per il privilegio e la gioia di poterci accostare ad essa e da essa ancora in questo giorno ricevere quanto tu ancora ci vorrai dire o ci vorrai ricordare. Signore preghiamo affinché ci sia l'unzione su chi parla ma anche su tutti noi che ascoltiamo quindi dispone aiutaci a disporre la nostra mente e il nostro cuore una mente un cuore ricettivi al consiglio al messaggio della tua parola. Chiediamo e chiedo assistenza allo Spirito Santo e la sua e la tua ispirazione allo Spirito Santo affinché possa parlare promulgare parole che provengono direttamente da te. Grazie Padre nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Tempo favorevole. Anno favorevole. Rema favorevole. Il rema di quest'anno è un rema è una parola che abbiamo oramai impresso nella nostra mente ma spero e sono certo e sicuro anche nel nostro cuore e nella nostra vita che è una parola che ci porterà a raccogliere quelle che sono le benedizioni che Dio ha stabilito per noi. Questi giorni ho avuto modo di parlare con diversi fratelli, diverse sorelle e gioisco nel ascoltare come il Signore sta portando avanti e soprattutto sta portando a compimento la sua parola. Gloria a Dio perché la sua parola va sempre a compimento, va sempre ad effetto. A me sentivo fratelli che mi dicevano pastore già da gennaio quando è iniziato l'anno è veramente un anno favorevole. Ho ricevuto, ho ricevuto, ho ricevuto. Il Signore mi ha dato posti di lavoro, luoghi, appartamenti, benefici, benedizione e noi non possiamo fare altro che dire gloria a Dio. Noi ringraziamo il Signore per tutto quello che noi riceviamo. Però quest'anno deve essere anche l'anno e credo che sarà l'anno dove oltre che al ricevere deve essere anche l'anno o vuole essere anche l'anno o dovrebbe essere l'anno che ci possa stimolare ed incoraggiare l'anno favorevole anche a dare. E non sto parlando di soldi assolutamente, a dare l'anno favorevole, quell'anno favorevole che ci porta anche ad un cambiamento. Io so per esperienza che i cambiamenti non sempre noi li accettiamo favorevolmente. Perché? Perché noi siamo abitudinari, noi abbiamo le nostre abitudini e stamattina voglio parlare proprio di abitudini. Il titolo di questa predicazione è disposti a rivedere le proprie abitudini. L'anno favorevole, tempo favorevole, tale da portarci ad essere disposti a rivedere quelle che sono le nostre abitudini. Spesso mi capita di ascoltare affermazioni, o mi è capitato di ascoltare affermazioni che magari abbiamo fatto anche noi e credo che non sono l'unico che ha potuto ascoltare o sentire affermazioni del tipo ma io sono abituato così. Sono sempre stato abituato così. Quando ci si sposa tra marito e moglie all'inizio del matrimonio, stiamo facendo il corso in preparazione al matrimonio e noi spesso diciamo attenzione perché quando poi vi sposate le cose cambiano, quando siamo sotto lo stesso tetto le cose cambiano. E io non so se l'avete detto anche voi o sono stato l'unico, quando mi sono sposato dopo una settimana mia moglie ha detto ma io ero abituato con mia mamma in maniera diversa e mia moglie mi ha detto adesso ti devi abituare in un'altra maniera, a lei. Quindi ci dobbiamo abituare, cambiano le situazioni. E noi possiamo cambiare o far cambiare determinate situazioni se siamo disposti o disponibili a cambiare le nostre abitudini. Tornando a Daniele, ho letto tutto il passaggio, mi soffermerò a considerare però il versetto 10 e la fine del versetto 10 dove è scritto che Daniele aveva le sue abitudini come era solito fare anche prima. Daniele è una bella figura che spesso si prende come spunto ad esempio per i giovani ma credo che è una figura biblica che dovrebbe rispecchiare la vita di tutti quanti noi. Abbiamo letto di Daniele che era un giovane, un uomo che si distingueva. Questo che cosa vuol dire? Che non era come gli altri. Faceva la differenza. Si distingueva. Era un uomo, un giovane, disposto ad andare probabilmente anche contro corrente. Un uomo, un giovane che non faceva quello che facevano gli altri. E poi vedremo quali erano le abitudini di Daniele descritti nel versetto 10. Si dice di Daniele che non si distingueva per qualità o per doti che probabilmente aveva pure. Era un giovane, di bella statura, insieme ai suoi amici, Sadak, Misak e Abdenego. Ma la Bibbia dice che Daniele si distingueva perché era animato da uno spirito diverso dagli altri. Daniele era animato non da uno spirito ordinario, lo fanno tutti, uno spirito comune come tutti gli altri, ma abbiamo letto che di Daniele e Daniele era animato da uno spirito straordinario. Quindi si distingueva per essere un giovane straordinario, era animato da uno spirito diverso dagli altri. Cercavano di trovare qualcosa in Daniele che lo potesse mettere in discussione, ma è scritto che niente si poteva trovare verso Daniele perché lui si distingueva per uno spirito straordinario ma non solo, non potevano trovare alcuna occasione, non si poteva dire niente di lui a motivo del fatto perché lui era fedele al suo Dio. Quindi Daniele si distingueva dagli altri, non era come gli altri, lo fanno tutti. A volte quello che fanno tutti la maggioranza non ha sempre la ragione. Vi ricordate le dodici spie quando furono mandate ad esplorare il paese? La maggioranza aveva una versione, stava dando una versione, una relazione e la minoranza ne stava dando un'altra. Grazie a Dio perché tante volte noi magari siamo in minoranza, però qualcuno ha detto che l'essere in minoranza ma avere Dio dalla nostra parte noi siamo comunque in maggioranza. Perché? Perché abbiamo l'iddio onnipotente, l'iddio grande che è dalla nostra parte. Quindi questo ci incoraggia a pensare al fatto che noi non siamo soli, noi magari a volte spesso può capitare di non avere la comprensione degli altri, di non avere il plauso della maggioranza, ma nel momento in cui abbiamo Dio dalla nostra parte noi abbiamo ogni cosa. Daniele si distingueva perché era animato da uno spirito straordinario, era lo spirito di Dio. Daniele si distingueva perché aveva le sue abitudini e di fronte alle situazioni lui manteneva quelle che erano le sue buone abitudini. È importante parlare di buone abitudini. Ci sono buone abitudini e ci sono cattive abitudini. Ci sono abitudini che devono cambiare. Non è detto che tutto quello che noi abbiamo fatto o facciamo sia giusto, perché ci sono delle situazioni che noi dobbiamo cambiare. Noi ci dobbiamo rispecchiare alla luce della parola di Dio. E grazie a Dio perché la sua parola ci parla e ci fa capire se noi lo vogliamo quello che deve cambiare nella nostra vita. Daniele era fedele al suo Dio. Alleluia! Nulla si poteva trovare perché non c'era alcuna cosa, alcuna mancanza da potergli rimproverare. Si distingueva perché? Perché viveva la sua integrità. Verso di Daniele e per Daniele nulla si poteva dire. Si manteneva integro. Ma tutto questo processo era grazie a che cosa? Grazie alla, appunto, sua buona abitudine. Sono stato toccato, soprattutto, mentre leggevo questo passaggio dall'ultima frase. Come era solito fare anche prima. cosa faceva di solito Daniele? Come viveva Daniele solitamente? Cambiare le abitudini alla luce della scrittura e della parola di Dio. Oggi c'è un rischio che si corre. L'avanzamento esteriore a volte purtroppo coincide con una decadenza interiore. mi spiego meglio. A volte il successo, a volte quello che ci porta ad avere un successo esteriore potrebbe mettere in discussione quello che è il nostro avanzamento e la nostra vita, e la nostra ricrezza, e la nostra crescita spirituale. La domanda è noi ci adoperiamo per avere successo? Ci adoperiamo per crescere professionalmente, per crescere nel nostro lavoro, per crescere nell'ambito delle nostre doti, per crescere nell'ambito delle nostre qualità? Tutto questo va a mettere in discussione la nostra crescita spirituale o meglio dire nello stesso modo che ci adoperiamo per crescere nelle nostre qualità, nel nostro successo? Siamo disposti comunque a cambiare e a fare in modo che possiamo avere la stessa crescita anche nella nostra vita spirituale? Disposti a cambiare le nostre abitudini. Tante volte, sapete, il cambiamento richiede impegno. Tante volte il cambiamento richiede sacrificio. Io sono nato e cresciuto in una famiglia dove mio padre per tanti anni mi diceva Samuele senza sacrifici ve lo dico in siciliano e poi ve lo dico in italiano ma si capisce bene senza sacrifici un meninendi. Senza sacrifici non viene nulla. Davide diceva io non offrirò al Signore mi sembra che un martedì sera qualcuno si è soffermato a considerare in questo passaggio in una meditazione del martedì sera io non darò al Signore qualcosa che non mi debba costare. Disposti a pagare un prezzo cambiare abitudini disposti a cambiare le abitudini questo ci porterà sicuramente a pagare un prezzo perché forse magari il Signore ci sta chiamando a sacrificare qualcosa anno favorevole per essere disposti a cambiare o a sacrificare qualcosa non lo so cosa potremmo o dovremmo sacrificare potrebbe essere il tempo potrebbe essere parte del nostro lavoro pastore il lavoro il lavoro quando noi siamo disposti a sacrificare qualsiasi cosa per Dio c'è sempre una grande benedizione fratelli c'è sempre una grande benedizione nella giusta misura Dio benedice sempre a volte magari il Signore ci potrebbe chiedere di sacrificare qualche altra cosa potremmo fare una lista che non finisce più ma non la voglio fare perché qualcuno potrebbe dire ma il pastore è il pastore è la Bibbia è il Signore è la parola che ci insegna appunto e ci incoraggia ad andare avanti a vivere veramente una vita devozionale qual'era la differenza in che cosa Daniele lo distingueva dagli altri versetto 10 Daniele aveva punto 1 una abitudine una abitudinale un'abitudine quella di vivere la sua devozione viveva la sua vita devota abitudinariamente sempre faceva le stesse cose gloria a Dio per quello che lui faceva versetto 6 è scritto che Daniele pregava e ringraziava il suo Dio come faceva era di solito fare anche prima Daniele viveva la sua devozione Daniele non metteva mai in discussione non si privava dei suoi momenti devozionali dei suoi momenti di preghiera dei suoi momenti di ringraziamento verso il proprio Dio si muoveva come era di solito fare quindi di solito e solitamente quindi vuol dire sempre e non solo la Bibbia dice che Daniele pregava tre volte al giorno e questo mi viene insito a paragonarlo al nostro cibo al nostro corpo il nostro corpo ha bisogno di almeno tre pasti al giorno Daniele pregava tre volte al giorno c'è la colazione c'è il pranzo e c'è la cena noi almeno tre volte al giorno abbiamo bisogno al mattino di pregare appena ci svegliamo mettendo la nostra vita nelle mani del Signore mettendo la nostra giornata nelle mani del Signore almeno la sera e tutte le sere abbiamo la necessità di pregare e di ringraziare il Signore per la giornata che abbiamo trascorso e forse magari anche chiedere perdono al Signore per gli errori fatti nel corso della giornata sbagliamo tutti fratelli e poi abbiamo bisogno che anche a metà giornata abbiamo bisogno di essere ristorati di avere il nostro spuntino il nostro momento di preghiera Daniele pregava e pregava spesso tre volte al giorno quindi quei tre volte è un tre simbolico Paolo l'apostolo Paolo per la sua malattia per la spina della carne quando parla di se stesso dice tre volte ho pregato e ho chiesto al Signore ma quel tre volte è implicito è simbolico perché chissà quante volte Paolo l'apostolo si era rivolto a Dio chiedendo la guarigione quindi questo vuol dire è che noi dobbiamo continuare a vivere una vita di preghiera una vita di devozione una vita di adorazione e ricordo che l'adorazione è uno stile di vita noi adoriamo il Signore sempre non solo quando veniamo in chiesa io quando lavoro adoro il Signore noi quando siamo a casa adoriamo il Signore quando siamo a scuola adoriamo il Signore quando stiamo camminando per la strada adoriamo il Signore mentre stiamo guidando noi adoriamo il Signore noi siamo adoratori e il Signore sta cercando ancora oggi veri adoratori che lo adorano in spirito e verità Daniele pregava mi sono posto quali erano i soggetti di preghiera di Daniele e credo che pregava con dei soggetti di preghiera abbiamo detto che Daniele si distingueva Daniele aveva uno spirito straordinario Daniele viveva una vita di integrità Daniele era fedele al suo Dio ma Daniele era un uomo come me e come voi e noi sappiamo che noi da soli tutto non lo possiamo fare perché la nostra vita è quella che è siamo deboli viviamo viviamo le nostre mancanze e sicuramente nel soggetto di preghiera o nei soggetti di preghiera di Daniele c'era una preghiera per se stesso chiedendo signore aiutami a vivere potendo fare la differenza in questo mondo era una preghiera per se stesso e noi abbiamo bisogno di pregare abbiamo bisogno che attraverso la preghiera e per mezzo della preghiera possiamo vivere una vita devota a Dio una vita gradita al Signore da soli non ce lo possiamo fare ma attraverso l'aiuto di Gesù e attraverso la costante comunione e una vita di preghiera col Signore noi possiamo raggiungere lo stesso modello di Daniele in che modo possiamo avere o essere o distinguerci o fare la differenza in questo mondo attraverso la preghiera fratelli Signore aiutami a mantenermi sicuramente Daniele pregava chiedendo al Signore che lo aiutasse a mantenersi nella sua integrità Signore io da solo non ce la posso fare ma attraverso la preghiera attraverso la mia richiesta e il tuo aiuto so che io ce la potrò fare alleluia pregare per se stesso qualcuno potrebbe dire o potremmo anche dire come si può raggiungere lo stesso livello di Daniele con la preghiera e con l'aiuto del Signore lo possiamo raggiungere e con anche un po' di impegno anche da parte nostra vivendo una vita devozionale noi oggi siamo chiamati a fare la differenza in questa società noi oggi siamo chiamati a fare la differenza in Malachia c'è un verso che dice che si deve vedere la differenza tra coloro che credono e da coloro che non credono noi non vogliamo essere cristiani nominali amen ma vogliamo essere cristiani di fatto e il termine cristiano significa proprio essere seguaci di Cristo Gesù ma a tutti gli effetti non con un'etichetta le etichette non servono non serve vivere in una nazione cristiana oggi c'è bisogno più che mai di veri adoratori di veri cristiani di veri seguaci di Cristo Gesù di veri uomini e donne che possono portare la differenza in questo mondo e questi uomini e donne siamo noi io insieme con voi con un minimo di sforzo e con l'aiuto del Signore e una vita di preghiera noi possiamo raggiungere la stessa qualità di Daniele disposti a cambiare le proprie abitudini diciamo la verità noi quante cose facciamo durante la giornata durante la settimana durante l'anno tante cose corriamo dalla mattina alla sera corriamo per le nostre cose corriamo per il lavoro corriamo per la nostra famiglia corriamo anche per le attività della Chiesa corriamo per tante cose giuste, buone e legittime e il nostro tempo con Gesù il nostro tempo con il Signore quanto tempo noi dedichiamo alla preghiera fratelli non dico questo perché qualcuno dovesse pensare o pensasse che qui c'è qualcuno che è più degli altri fratelli la Bibbia e Giacomo diceva non siate molti a fare da maestri perché siete tutti mancanti e tutti abbiamo bisogno di essere scossi dalla parola di Dio abbiamo bisogno di essere scossi il Signore vuole che in quest'anno veramente possa essere l'anno favorevole dove ci possiamo impegnare a dare di più al Signore quest'anno deve essere l'anno dove ci possiamo impegnare ci dobbiamo impegnare a dare il meglio di noi stessi al Signore non lo scarto non quello che ci avanza non se lo posso fare non se posso perché se aspettiamo di avere del tempo che ci avanza e quando fra un po' non abbiamo neanche tempo per dormire non abbiamo il tempo per fare niente se aspettiamo gli avanzi non daremo mai perché non avremo mai tempo a disposizione ma il Signore ci chiede la primizia e la decima anche nel nostro tempo il Signore ci chiede la cosa migliore prima di tutte le altre cose Gesù diceva cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi tutte le altre cose vi saranno date in più Daniele non pregava solo per se stesso noi dobbiamo pregare per noi stessi abbiamo bisogno di alimentare la nostra vita nella preghiera Spurgeon diceva che una citazione non dico che chiunque prega è un cristiano ma dico che chiunque prega sinceramente lo è non dico che chiunque prega è un cristiano ma dico che chiunque prega sinceramente lo è veramente perché noi non vogliamo fare preghiere alla preghiera del pasto voi pregate preghiamo tutti quando ci troviamo davanti al pasto no? Signore benedici questo cibo nel nome di Gesù benedice eterno e magari abbiamo già finito mezzo piatto di pasto la cosa la spiccia abbiamo pregato ci siamo messi a posto il Signore vuole che noi veramente diamo il meglio di noi stessi preghiere fatte col cuore e sincere tempi di comunione tempi di devozione di devozione il proprio devozionale ma Daniele non pregava solo per lui pregava anche per il suo popolo la Bibbia dice che andava nella sua cameretta e poi parliamo della sua camera apriva le finestre e si metteva rivolto verso Gerusalemme fratelli più che mai in questo momento nella società tenendo conto che le cose di male stanno andando in peggio ci sono delle situazioni che io e voi non possiamo cambiare ci sono tante situazioni che stanno andando contro quelli che sono i principi di Dio la società sta andando come sta andando noi siamo chiamati uno a fare la differenza a distinguerci perché Daniele non si era adeguato ad un sistema noi non ci dobbiamo adeguare ad un sistema il sistema oggi ci dice che oramai il male viene chiamato bene tutto quello che è male viene visto bene perché lo fanno tutti quindi Daniele non si era adeguato al sistema si distingueva e quindi noi vogliamo distinguerci per quello che siamo combattere per mantenerci integri e per portare alta la bandiera del nostro Signore Cristo Salvatore Gesù Cristo vogliamo essere veramente testimoni efficaci vogliamo dire con tutta forza e con integrità io sono un figlio di Dio i figli di Dio si adoperano per la pace beati coloro che si adoperano per la pace perché quelli saranno chiamati figli di Dio questo mi viene in mente in questo momento questo passaggio ma siamo chiamati a distinguerci in tante altre cose ma non solo ci sono delle situazioni fratelli che io e voi non possiamo cambiare vorremmo cambiare ma non abbiamo la possibilità e non abbiamo la forza ma possiamo fare quello che faceva Daniele apriva le finestre e pregava per Gerusalemme noi oggi siamo chiamati a pregare per la nazione a pregare per il popolo a pregare per i governanti a pregare per le autorità per le nostre per coloro che ci governano nella famiglia sul lavoro nella città nella nostra nazione oggi c'è più che mai bisogno di un popolo che prega per tutti gli uomini Paolo diceva a Timoteo prima di ogni altra cosa che si elevano preghiere a Dio per tutti gli uomini per tutti i santi per tutti coloro che sono in autorità noi siamo chiamati a pregare questi erano questi erano i soggetti di preghiera per di Daniele ma Daniele non si limitava solamente a pregare Daniele pregava e ringraziava il suo Dio Daniele pregava e ringraziava il suo Dio Spurgeon diceva proprio così certamente è una vita spirituale ben povera quando si chiede solamente sempre e non si dimostra mai la propria gratitudine quando noi chiediamo chiediamo signore tu mi devi tu mi devi tu mi devi mi devi dare io voglio io voglio io voglio quando l'erba voglio non c'è manco nel giardino del re noi dobbiamo chiesere al Signore Paolo diceva che si elevano preghiere e suppliche al Signore noi dobbiamo pregare ma poi diceva accompagnati da ringraziamenti essere grati al Signore la preghiera e la lode fanno scendere in terra la benedizione dal cielo quando noi preghiamo e ringraziamo il Signore noi apriamo il cielo sopra la nostra vita e sopra la nostra testa il ringraziamento non deve mancare in ogni cosa diceva l'Apostolo Paolo in ogni cosa e per ogni cosa rendete grazie noi siamo chiamati a ringraziare il Signore in ogni cosa cambiare le abitudini disposti a cambiare le abitudini che tipo di abitudini dobbiamo cambiare in questo senso perché noi come figli siamo abituati a chiedere sempre voglio 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 cambiare le nostre abitudini è quello di oltre a chiedere ringraziare pure il Signore ci dà ma quante volte quando riceviamo da Dio poi ringraziamo preghiamo otteniamo ringraziamo sempre il Signore a volte ci dimentichiamo siamo grati al Signore ma a volte ci dimentichiamo a volte lo facciamo non è sempre così ma la gratitudine il ringraziamento deve essere sempre nel nostro cuore fratelli Daniele ringraziava il Signore pregava e ringraziava il Signore il ringraziamento fa parte della lode come possiamo benedire il Signore attraverso la lode non è che noi possiamo fare o dare qualcosa al Signore perché il Signore non ha bisogno dei nostri beni materiali non ha bisogno di niente perché Lui è ricco in misericordia è ricco in risorse Lui ha ogni cosa l'unica cosa che io e voi possiamo fare è quello di rivolgerci rivolgergli la nostra lode il nostro ringraziamento Daniele si distingueva perché viveva con un senso di gratitudine nella propria vita e nel proprio cuore Daniele si distingueva anche per un uomo che affrontava diversamente le prove le situazioni Daniele non è stato esente dalle prove fornace ardente la fossa dei leoni ha passato le sue prove proprio perché abbiamo detto prima che Daniele era un uomo come me e come voi noi il credente i figli di Dio non sono esenti dalle prove dalle difficoltà anzi la Bibbia dice che io e voi dobbiamo passare è necessario passare attraverso le prove perché la prova ci purifica la prova ci fortifica ma come affrontiamo la prova Daniele cercarono di tutto per trovare qualcosa che non andasse l'unica cosa che poteva in qualche maniera far cadere Daniele era il pericolo di vita emaniamo un decreto facendo in modo che per un tempo di 30 giorni tutti coloro che adoreranno un Dio diverso una persona diversa tranne te o re saranno gettati nella fossa dei leoni alto che prova a rischio di vita a rischio di pericolo una prova con un decreto irrevocabile come affrontiamo le situazioni della vita o i pericoli della vita quando ci troviamo di fronte magari anche a situazioni con dei decreti con delle sentenze o con dei verdetti magari anche medici medicamente parlando cliniche che non c'è più niente da fare il verdetto c'era era immutabile e irrevocabile Daniele consapevole di questo quando Daniele venne a sapere quindi consapevolezza noi siamo consapevoli della situazione noi siamo consapevoli e dobbiamo essere consapevoli delle situazioni che viviamo nella nostra vita noi non camminiamo dieci centimetri da terra noi viviamo in questo mondo e quindi di conseguenza siamo consapevoli che vivendo in questo mondo viviamo le difficoltà che il sistema di questo mondo ci propone noi siamo consapevoli che ci ammaliamo noi siamo consapevoli che ci succedono delle disgrazie siamo consapevoli che possiamo passare attraverso la valle dell'ombre della morte come diceva Davide Daniele quando seppe quando seppe che il decreto era firmato l'attitudine l'atteggiamento di Daniele con tutta la sua calma andò nella sua casa io e voi quando ci troviamo ad affrontare situazioni di difficoltà come reagiamo panico un decreto firmato e adesso come facciamo come possiamo affrontare situazioni o queste situazioni panico ci arrabbiamo con tutti cadiamo nello scoraggiamento cadiamo magari anche nella depressione agitazione preoccupazione Daniele dice la Bibbia che quando venne a sapere del decreto o che il decreto era stato firmato affrontò la situazione come di solito era lui faceva anche prima il problema la difficoltà non lo ha spostato di una virgola il mondo cade e io mi sposto con tutta la calma e la tranquillità lui torna a casa sua ma dice la Bibbia uno spirito straordinario e si distingueva anche in questo lo spirito di ogni credente fratelli di ogni figlio di Dio delle persone che sono veramente spirituali che siamo spirituali quando ci troviamo ad affrontare le situazioni quando le situazioni non vanno come dovrebbero andare quando siamo turbati o ci sono delle situazioni la soluzione non è quella di andare a casa sua a chiudersi in una stanza e non voglio uscire più lui si è chiuso in una stanza non è che non si è chiuso aveva la sua stanza andò nella sua casa con tutta calma nella Bibbia c'è scritto che Isaia nella calma e nella fiducia sta la nostra forza forza nella calma e nella fiducia sta la nostra forza quindi si legge di eh di Daniele era consapevole della situazione ed era pure consapevole delle conseguenze tutti coloro che pregheranno o adoreranno un altro Dio conseguenza saranno gettati in nella fossa dei leoni ci sono delle situazioni che noi viviamo e ne conosciamo pure le conseguenze il medico mi dice che ho un tumore e so che se Dio non interviene la conseguenza la conosciamo ci sono delle situazioni che ci accadono nella nostra vita e se Dio non interviene sappiamo che la conseguenza sarà quella che sarà viviamo delle situazioni magari perdiamo un posto di lavoro e se non trovo un posto di lavoro la conseguenza sarà che non potrò pagare le bollette pagamente tutto quello che devo pagare ci sono delle situazioni familiari che si vivono e se non si esistevano la conseguenza sarà che tutto andrà per distruggersi ci sono delle situazioni che noi viviamo nella nostra vita e conosciamo siamo consapevoli della situazione e siamo pure consapevoli delle conseguenze Daniele era consapevole del decreto ed era pure consapevole che la sua conseguenza avrebbe potuto essere quella di finire nella bocca dei leoni quindi fare una brutta fine ma consapevole della situazione e delle conseguenze dice la Bibbia che Daniele si distingueva perché era fedele al suo Dio andò nella sua casa ed entrò nella sua cameretta aveva la sua cameretta a piano di sopra permettetemi di soffermarmi a considerare anche il piano il piano di sopra era un livello superiore c'è bisogno che anche noi alziamo di un livello superiore la nostra spiritualità che ci porta ad affrontare le situazioni in modo in maniera diversa quindi al piano superiore era quel piano dove c'era la cameretta il popolo della pentecoste quando pregava era nell'uologo superiore nell'alto chiamato alto solaio perché in quell'alto solaio là c'era la preghiera la pregavano e aspettavano la promessa di dio aspettavano le promesse del signore quindi nella sua cameretta superiore era al primo piano non era piano terra c'è una differenza tra il piano terra e il primo piano il piano terra mi parla di terra e quindi tante volte noi affrontiamo le situazioni la consapevolezza che ci sono le situazioni e le affrontiamo dal punto di vista materiale umano terreno ma lui Daniele aveva una camera al piano superiore a un livello superiore e il livello superiore mi parla di spiritualità di un livello più alto di spiritualità la domanda è in quale piano abbiamo noi la nostra cameretta come affrontiamo le situazioni al piano terreno o al primo piano al piano terra o al piano superiore Gesù diceva appunto a proposito dei piani ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la tua preghiera al padre mi voglio soffermare sull'entrare nella tua cameretta e chiudere la porta questo significa che noi entriamo nella cameretta quando noi viviamo e dobbiamo affrontare determinate situazioni o prove nella vita fratelli le nostre situazioni le nostre prove le nostre difficoltà le affrontiamo nella nostra cameretta cameretta segreta e chiudiamo la porta e che cosa lasciamo fuori dalla porta ci sono delle cose o delle situazioni che devono essere lasciate fuori dalla porta per esempio l'incredulità quando tu preghi quando io prego quando noi preghiamo e nello stesso tempo siamo increduli non crediamo molto può la preghiera del giusto se è fatta con efficacia la Bibbia dice chi dubita in cuor suo non pensi di ricevere qualcosa Daniele consapevole della situazione consapevole delle conseguenze affrontò la situazione come di solito faceva di solito Daniele quando affrontava le situazioni o si trovava a dover affrontare le situazioni aveva la sua stanza e sapeva che là trovava la soluzione là trovava il beneficio là trovava trovava udienza permettetemi sto termine udienze a porte chiuse sapete nei tribunali ogni tanto si tengono delle udienze e il giudice decide di tenere un'udienza a porte chiuse perché perché a volte se non sono a porte chiuse dall'esterno possono entrare delle infiltrazioni che possono in qualche modo portare scompiglio nelle varie situazioni della causa quindi noi quando ci troviamo a dover affrontare determinate situazioni della vita prove difficoltà abbiamo bisogno di andare nella nostra camera segreta nella nostra cameretta chiudere la porta e lasciare al di fuori della camera ogni forma di incredulità e di sapere anche chiedere già come diceva voi non ricevete perché non sapete chiedere perché perché chiedete male perché chiedete solamente per spendere nei vostri piaceri la porta della mondanità ho utilizzato questo termine anche se la porta della mondanità che cos'è la mondanità abbiamo bisogno per ottenere l'esaudimento delle nostre preghiere parla di esaudimento l'anno favorevole per ricevere l'esaudimento delle nostre preghiere fratelli abbiamo bisogno di lasciare fuori o ad allontanare dalla nostra vita tutto quello che non è gradito davanti agli occhi di Dio che ha un termine che si racchiude in un termine che si chiama peccato se viviamo in una condizione di peccato non pensiamo di ricevere qualcosa la Bibbia dice non illudetevi non ingannatevi a volte noi viviamo in una condizione o in condizioni che magari non sono gradite a Dio e la cosa peggiore è che magari lo sappiamo pure e poi andiamo dal Signore in preghiera e chiediamo Signore Signore tu mi devi che cosa Dio ama il peccatore ma odia il peccato tutto quello che è peccato deve essere lasciato fuori fratelli se viviamo in una condizione di peccato il Signore non potrà mai esaudire le nostre preghiere le nostre preghiere non potranno ricevere esaudimento e quindi fuori dalla porta dobbiamo lasciare tutto quello che ostruisce che ostacola la preghiera ovvero tutto quello che non è gradito davanti agli occhi di Dio tante volte si prega Signore ma come mai non rispondi alla mia preghiera o alle mie preghiere è buona questa domanda è buono mettersi in discussione fratelli quando ci troviamo di fronte a determinate situazioni quando viviamo determinate situazioni nella nostra vita e non vediamo la via d'uscita è buono esaminare noi stessi come dice la scrittura esaminatevi per vedere se siete nella fede diceva l'apostolo Pietro quindi è buono che ci esaminiamo e se poi quando ci siamo ci siamo esaminati abbiamo trovato che siamo a posto davanti a Dio gloria a Dio ma se ci sono delle situazioni che devono cambiare nella nostra vita allora dobbiamo avere quell'orecchio sensibile che ci porta a cambiare forse determinate abitudini noi veniamo tutti da un passato dicevo a qualcuno in questi giorni che chiamiamo mondo sistema e quando noi ci convertiamo al Signore dobbiamo entrare ed entriamo in quel rinnovamento della mente quindi veniamo cambiati trasformati e rinnovati quindi non pensiamo più con una mente con la mente di prima ma ci proiettiamo a pensare con la mente di Cristo allineiamo i nostri pensieri a quello che è la scrittura e alla parola di Dio si deve vedere un cambiamento i cambiamenti si devono vedere Giovanni Battista diceva fate segni degni di ravvedimento ci devono essere dei segnali non è possibile fratelli essere credenti e vivere la stessa vita di prima o come la vivono gli altri Daniele si distingueva Daniele faceva la differenza e anche noi anche io e insieme con voi siamo chiamati a fare la differenza ad allontanare nella nostra vita tutto ciò che non è gradito a Dio fuori dalla porta cosa dobbiamo lasciare oltre alla mondanità di solito non uso questa terminologia ma non ne ho trovato altre per farmi capire e credo che mi avete capito a che cosa mi riferivo anche l'orgoglio dobbiamo lasciare fuori per ottenere l'esaudimento alle nostre preghiere seconda cronaca 714 dice se il mio popolo sul quale ho invocato il mio nome si umilia si umilia quando noi entriamo nella cameretta e preghiamo abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio non di andare a picchiare i pugni tu mi devi mi spetta per diritto tu mi devi perché sono un tuo figliuolo ma dove siamo figli di Dio amè ma per diritto non ci spetta nulla perché tutto quello che io e voi riceviamo lo riceviamo per favore non meritato io non merito nulla noi non meritiamo nulla ma tutto quello che otteniamo da Dio è perché Dio ce lo dà perché Dio è un Dio pieno di amore e pieno di grazia noi non meritavamo noi meritavamo la morte eterna e lui ci ha trasferito in vita eterna ma non perché lo meritavamo perché Dio ha deciso così Dio ci dà perché lui decide e quando entriamo nella cameretta quando preghiamo noi abbiamo bisogno di umiliarci quando si presentavano a Gesù pregavano dicevano abbi pietà di me figlio di Davide abbi pietà di me abbi pietà di me noi ci umiliamo io mi umilio davanti alla presenza di Dio noi ci dobbiamo umiliare davanti alla presenza di Dio dicendo signore noi non meritaniamo nulla io non merito nulla io non sono degno io non sono in grado di uscire da questa determinata situazione ma io mi umilio davanti alla tua presenza consapevole del fatto che tu sei un Dio che può ogni cosa che tu sei al di sopra di ogni cosa che tu sei il padre delle nazioni e che tu vedi ogni cosa e puoi fare ogni cosa non alla mia gloria ma alla gloria di Dio alleluia quindi abbiamo bisogno di rivedere la nostra vita disposti a cambiare le nostre abitudini quando Daniele seppe che il decreto era firmato andò a casa sua tenendo le finestre della sua cameretta superiore aperte verso Gerusalemme tre volte al giorno si metteva in ginocchio una volta noi amavamo anche metterci in ginocchio a pregare ed era un segnale di devozione piegavamo il nostro cuore e le nostre ginocchia davanti al Signore si metteva in ginocchio gloria a Dio perché le ginocchie parlano di preghiera l'ho sempre detto e mi ripeto i problemi e le difficoltà si risolvono qua piegando le nostre ginocchia davanti al Signore si metteva in ginocchio pregava e ringraziava il suo Dio com'era solito fare prima quindi non aspettò che arrivasse il problema di solito noi come lo facciamo quando le cose vanno bene vanno bene quando le cose non vanno più bene allora andiamo a Dio Daniele è scritto che lui prima che le cose andassero per il verso sbagliato prima del decreto già lui era abituato era allenato viveva la sua vita la sua devozione e quindi il problema la difficoltà non lo ha stimolato o ha cambiato qualcosa nella sua vita lui ha continuato a fare quello che faceva prima cosa faceva prima? pregava e ringraziava il Signore con il problema pregava e ringraziava il Signore e dopo il problema pregava e ringraziava il Signore perché aveva riconosciuto il Signore ed era fedele al Signore e si rimetteva alla volontà di Dio vi ricordate i tre ragazzi buttati nella fordata ardente Mesac, Sadac e Abdenego gli amici di Daniele noi non ci piegheremo a te o re ci butterai nella fornace ardente noi sappiamo che il nostro Dio è in grado di liberarci ma se anche non lo facesse che bella attitudine e se Dio non ti liberasse da una determinata situazione tu cosa fai? di solito sapete cosa mi arriva all'orecchio tante volte? non vengo più in chiesa pastore non ti voglio più sentire non voglio più parlare me ne vado di qua me ne vado di là ma se anche Dio non lo facesse io continuerò ad essere fedele al mio Dio e se anche il Signore non lo facesse continuerò e rimarrò fedele al mio Dio Daniele aveva riconosciuto Dio come il suo Dio io non so se tutti qua abbiamo riconosciuto il Signore Gesù come il nostro Signore se non l'hai fatto questa mattina lo puoi fare puoi arrendere la tua vita a Gesù riconoscendo Gesù come il tuo Salvatore come il tuo Signore e allora potrai fare l'esperienza o la stessa esperienza che ha fatto Daniele disposti a cambiare le proprie abitudini che il Signore ci aiuti fratelli abbiamo bisogno dell'intervento soprannaturale del Signore e per fare ciò che ciò avvenga che questo avvenga abbiamo bisogno di pregare insieme alziamoci in piedi Alleluia Gloria a Gesù Alleluia Daniele pregava e ringraziava il Signore Alleluia preghiamo e ringraziamo il Signore adoriamo il Signore benediciamo insieme il Signore Alleluia disposti a cambiare le proprie abitudini l'anno favorevole per cambiare qualcosa nella nostra vita cosa deve cambiare nella tua vita o nella mia vita o nella nostra vita Signore una volta cantavamo un canto che diceva Signore cambia il cuore mio tante volte abbiamo bisogno di essere cambiati dentro qualcosa deve essere cambiato nella nostra vita che magari non è un modo di fare ma è semplicemente un modo di essere o di vivere o l'attitudine addirittura del nostro cuore Daniele aveva un'attitudine straordinaria Signore cambia la nostra attitudine ma l'attitudine verso di Te Signore Gesù una di tutti in udine conforme alla Tua parola benediciamo insieme il Signore benediciamo insieme il Signore Gesù Alleluia 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 ho fatto errori in passato quando ero via da Te cercavo la vera vita altrove per primo ho ingannato me ma Tu sei corso verso di me mi hai abbracciato estratto a Te io torno a casa Padre ti amo con Te con Te resterò Alleluia mai più andrò via lontano dalla presenza Tua mai più mai più ti lascerò ritorno a Te ritorno a Te ritorno a Te torno al primo amore ritorno a Te ritorno a Te ritorno a Te ritorno al primo amore ritorno a Te ritorno a Te ritorno al primo amore ritorno al primo amore Alleluia Alleluia Andrò via, lontano dalla presenza tua, mai più, mai più ti lascerò. Mai più, mai più andrò via, lontano dalla presenza tua, mai più, mai più ti lascerò. Alleluia, meravigliosi, signore non vogliamo stare lontano dalla tua presenza, signore tu hai detto io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita, ma anche noi signore vogliamo rimanere vicini alla tua presenza, mai lontani da te. Signore aiutaci ad assomigliare alla vita di Daniele, Daniele si distingueva. Signore aiutaci anche a noi a fare la differenza, distinguerci, non con un distintivo, ma aiutaci a vivere una vita che si distingue, ad essere eliminati da quello spirito straordinario che aveva Daniele, dettato dalla vicinanza che aveva con te, dalla fedeltà vissuta verso di te. Signore vogliamo rimanere fedeli alla tua parola, fedeli a te in ogni cosa. Signore preghiamo insieme per tutti noi che siamo qui uniti in questa sala. Signore vogliamo rispondere positivamente alla tua parola, signore. E ti preghiamo che tu ci aiuti, signore, a vivere e a mettere in pratica la tua parola nella nostra vita. A vivere una vita di preghiera, accompagnata da un ringrazio. Signore aiutaci a cambiare. Signore, cambia quello che deve essere cambiato nella nostra vita. Riconosciamo, signore, che siamo imperfetti ed abbiamo bisogno di te. E che non sempre riusciamo a cambiare in alcuni aspetti della nostra vita. Per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Signore vieni in soccorso. Aiutaci, signore, perché senza di te noi non possiamo fare nulla. Ti odiamo, signore, di benediciamo. E ti ringraziamo perché tu sei un Dio fedeli. Alleluia. Alleluia. Grazie, signore. Grazie perché tu ci parli. A te diamo tutto l'onore e la gloria per tutto il nostro ringraziamento, nostro padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. A me. Possiamo concludere con un canto? A te diamo tutto l'onore e la gloria per tutto il nostro ringraziamento, nostro padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. A te diamo tutto l'onore e la gloria per tutto il nostro ringraziamento, nostro padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Senti Gesù, nel nome di Gesù. Senti Gesù, il tuo potere, il tuo potere, con la tua croce. Senti Gesù, il tuo potere, con la tua croce. Senti Gesù, il tuo potere, con la tua croce. Senti Gesù, il tuo potere, con la tua croce. Amen. Dio ci benedica. Senti Gesù, il tuo potere. Senti Gesù, il tuo potere, con la tua croce. Senti Gesù, il tuo potere, con la tua croce. Senti Gesù, il tuo potere, con la tua croce. Senti Gesù, il tuo potere, con la tua croce.